buongiorno a tutti stamani siamo ad abbadia san salvatore per fare la gara che vale per il campionato nazionale e provinciale di corsa in salita quindi stamani c'è da scarpinare un po ti devi impegnare sono 13 chilometri a 2 e arriveremo vicino alla vetta del monte amiata e io proverò a seguirla in bicicletta esatto oggi ha il pettorale anche daniele quindi siamo entrambi attrezzati e carichi per fare questa bella corsa il tempo è fresco non immaginavo così tanto io sono in canottiera ma insomma dai speriamo che comunque mi scaldi sì ti scalderai dai dai bisogna partire andiamo alle ore 9 è partita la camminata e la pedalata entrambe non competitive io se non si fosse capito sto facendo la pedalata e sono partito con calma perché poi tra un po' mi fermo e aspetto ambra per vedere come andrà la sua gara che la sua è decisamente competitiva alla camminata ci sono tantissimi iscritti ho superato tanti invece in bicicletta in bicicletta non mi sembra ci sia quasi nessuno comunque sa che ormai quelli che sono partiti in bici sono già più avanti forse le vedrò su all'arrivo sono le 9 30 la gara è partita l'ho sentito dire anche poco fa la radio di uno di quelli che chiudono le strade io sono a un chilometro poco più dalla partenza quindi ora aspetto i primi e poi partiamo con ambra dopo circa un chilometro di inseguimento vedo ambra all'orizzonte la vado a riprendere siamo a 4 chilometri e mezzo e sono un po' stanca la gara sarà tutta in salita quindi gli unici modi per riposarsi sono questi pezzettini che poi pari non è diciamo che è leggera salita però sembra pari rispetto a prima sarà dura stamani è dura è dura dai 900 metri di dislivello in salita abbiamo letto più o meno in soli 13 chilometri quindi sarà una bella prova per la nostra ambra cosa va ha mangiato un dattero ha mangiato un dattero wow allora ora durerò fatica a saltarti dietro ne mangio un altro dopo altri due vediamo un po' ottimo tre numero perfetto si comincia a respirare l'atmosfera e l'aria di montagna siamo a 1200 metri nel frattempo sta arrivando ambra dai questa vetta della miata è davvero tosta da raggiungere sia a corsa che anche in bici prossimo anno a camminata no ci vuole troppo a camminare dai poi ti annoi bici assistita e ce ne sono tanti tra l'altro prima avevo detto che non c'era tanta gente in bici cioè pensavo non ci fosse invece un po' ne ho visti durante la strada comunque molto molto meno rispetto a chi corre a chi cammina dai ambra dai siamo oltre metà qua a destra ci sono i primi impianti sciistici impianti di risalita questo ci fa capire che cominciamo ad essere abbastanza in quota e continuiamo a salire dai ora mancano solo 4 chilometri vado a riprendere ambra perché nel frattempo mi ho fermato questa gara non è come tutte le altre in cui ho accompagnato ambra per darle supporto farle compagnia fare qualche foto qualche video perché tutte le volte mi fermo per riprenderla mi ci vuole un chilometro di pedalata comunque pedalo finché posso al mio limite mentre di solito quando ci sono le gare nel pari o comunque con leggeri salita e discesa riprenderla è un attimo e invece oggi cavolo che fatica comunque la strada è bellissima sale non troppo ripida ma comunque si sente nel mezzo a bellissimi boschi c'è una bella ombra tra l'altro oggi non c'era nemmeno troppo bisogno dell'ombra perché è nuvolo e è fresco quando arrivo in cima mi dovrò vestire bene ora siamo a 1500 metri tira un po di venticello ok ecco adesso vedo ambra l'orizzonte la sto riprendendo mancano meno di due chilometri d'arrivo la temperatura si è abbassata decisamente comunque non ho freddo anzi sono bella sudata anche se lassù mi sa che sarà frescolino si molto frescolino ragazzi è dura è quasi come la maratona avevo fiato qui non riesco mai a recuperarlo si è stato tipo 100 metri di pari proprio pari ma credo non più di 100 metri poi sempre salita più o meno ripida eccoci siamo all'arrivo finalmente 13 chilometri di salita mamma com'è questa donna allora ce l'hai fatta bravissima ti vede un po stanca guarda arrivo a decima decima di categoria femminile bravissima complimenti oddio è stata terribile ce la facevo più come hai detto? non ce la facevo più ho fattenuto veramente tanto non so se si vede sei un po sconvolta alla fine della corsa quindi quasi sotto la vetta del monte ameata c'era una temperatura veramente ostile era nuvolo tirava vento era freddo d'altronde a 1600 1600 1700 1700 metri di altitudine non ci potevamo aspettare che si stesse come spiaggia quindi siamo stati pochino lassù giusto il tempo di prendere qualcosa da mangiare e da bere e poi abbiamo detto torniamo giù che si sta meglio al paese allora io sono ripartito in bici quindi adesso mi sto facendo 13 chilometri in discesa tutto discesa e ambra ho saputo poco fa che ha preso una delle navette a disposizione quindi è su un bus e sta scendendo anche lei quindi continuo e mi rincontrerò con lei giù al paese spero che la navetta faccia veloce per fortuna la navetta ha riportato giù sano e salvo ambra la cosa mi ha fatto molto piacere e così poi abbiamo fatto un bel pranzo insieme in un giardino e adesso siamo un pochino più lontani da Badia San Salvatore siamo in un posto ancora più in basso un po' più comodo anche se c'è un po' di vento allora che bella averla finita mamma mia è stata bella dura pensavo che l'avrei retta meglio perché comunque abbiamo fatto io ho fatto insomma varie corse con salite e discese però questa era solo salita quindi è stata interessante avevo fatto solo un'altra volta una gara che era solo in salita e insomma le salite sono dure cioè 900 metri di slivello eh di sì di slivello solo in salita quindi non in discesa sui 13 km l'altra avevi fatto era molto meno di slivello era più corta era sui 9 km sì era più corta però quella l'avevi fatta il giorno dopo aver fatto una tappa della francigena di 33 km con arrivo molto in salita quindi lì c'avevi un po' di stanchezza il giorno prima sì ed ero meno allenata di ora sulle salite quindi e anche lì a fine forse eri abbastanza distrutta sì e poi dai sono arrivata non so se l'ho già detto comunque lo diciamo sono arrivata decima di categoria della mia categoria quindi dai 30 ai 40 anni donne dai 30 ai 40 anni dai anche perché ce ne erano abbastanza di donne non era una gara premiavano le prime 10 quindi siamo tornati a casa con una bottiglia di vino e i pici e i pici che ti piacciono tanto sì sei stata brava sì grazie ora ci riposiamo e anche io ho un po' di fatica comunque l'ho durata insomma poi te lo sei fatto anche tutto in giù anche tutto in giù sì sì in giù andava abbastanza da sola la bicicletta comunque non è che ho dovuto fingere granché anzi è stato impegnativo più che altro perché i primi 3-4 km faceva molto freddo e quindi fare discesa partendo da diciamo non caldo ero freddo c'aveva un po' di sudore freddato addosso insomma ho dovuto frenare molto perché sennò con la velocità faceva davvero troppo freddo poi più scendendo poi era migliore la percezione della temperatura e poi era anche più caldo c'era il sole invece su in cima c'era nebbia che si spostava un tempo allucinante temperatura non so quanto fosse ma era veramente freddo insomma si era in montagna e lì insomma si scia d'inverno quindi era altino sì è andata è andata è andata allora si va a perci la bottiglia di vino e ti sei guadagnata no dai non subito non subito subito ora andiamo a casa doccia sì dobbiamo fare un po' di stretching nei prossimi giorni ulteriore perché le gambe sono a pezzi e ci prepariamo per la prossima gara dai vai dai avanti così sì quindi iscrivetevi al canale perché arriveranno altre corse gare escursioni e chissà cosa ha chi lo sa continuate a seguirci e buono sport sostenibile a tutti ciao ciao la temperatura si è abbassata decisamente però basta la macchina scusa 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 c'è proprio vero ma un culo vai GoPro arresta video GoPro arresta video GoPro arresta video grazie a tutti grazie a tutti